Ciao, siamo Arun, Madior, Virginia, Dylan, Giuseppe, Dani, Beatrice e questa è la Charlo Battle del cast di Zero. Allora, la prima pick up lines è, sei un dizionario perché stai aggiungendo significato alla mia vita. Ok, che emozione. Siete pronti? Sì. Ok. Scusate, devo essere in un museo? Perché sei un'opera d'arte. Ok, ok. Mi è piaciuta l'interpretazione. Grazie. Vero, l'interpretazione ci stava, però... Punto a Dylan. Punto a Dylan. Ok. Eh sì, sì. 1-0, vai. Tuo padre era forse un ladro? Perché ha rubato due stelle e te li ha messo al posto degli occhi. Ah, carina. Sì, papaladro. Ti puoi spostare, per favore? Ecco. Perché sai, da quando ti ho visto... Cioè... Si è entrato nella mia testa. Proprio... Qua è difficile. Qua è tesa. Il punto va... Va bene. Va bene. Va bene. Sei Netflix? Perché potrei guardarti per ore. Sexy. Sexy. Smooth. Mamma mia. Ok, ok, ok. Vado io. Scusa, ti... Ti conosco? No, perché assomiglia alle ma... Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Cosa? Sì, 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 sì. Ok, va bene. Va bene, mi sono già fatto. No, punto per Dylan. Può capitare. No, no, aspetta. Non va. Punto per Dylan. Non va. È andata mai. Dai, riprova, riprova. Posso ritentare? Riprova. Scusa, ti conosco. Ah, scusa. Perché assomigli alla mia prossima ragazza. No, 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 non ci siamo. Non ci siamo. Non ci siamo, ma che cos'è? Ma non vale, cioè il mio charme... Mamma mia, questo può pure attamarro. Ma tu sei religioso? No, perché, cioè, sei proprio... Sei tutte le risposte alle mie preghiere. Mamma mia, ragazza. Devo fare una chiamata. Chiamo mia nonna e le dico che finalmente l'attesa è finita. Ok. Vince questa. Ok. Vince questa. No, comunque posso dire che tirare in ballo la nonna, cioè, giocare sporco proprio. È un colpo di stile, baby. Non si può. Però, però, però sai cosa? È giocare facile lì, capito? Perché tu metti la nonna, ovvero buon cibo, la domenica, che arrivi, fai... Però no, la nonna, no, saluta la nonna a casa, dirgli di continuare la ricerca. Guarda che quelle come me le torni a cercare. E non è scritta. Mi sta preparando, mi sta caricando. Guarda, spero che tu capisca qualcosa della respirazione artificiale perché mi stai rubando il fiato. Nooo. Madonna, pesante questa. Caldo, 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 caldo. Beh, eccomi qua. Quali sono gli altri due desideri? È finita. È molto Arun, è molto Arun questa. È finita, è finita. È molto... Somma, temi. Vuoi che ci provo con te? Così? Scusa? Da nulla? No, no, non ce la faccio. Sono troppo emozionata. Vai. Ti chiami Google? Perché forse è tutto quello che cerco. Oddio, ragazzi, questa cosa mi ha veramente toccato. Ci ha toccato! Scusa, ma per caso hai Ago e Filo? Perché, cioè, vorrei attaccare il bottone. Così, silenzio. Ok, allora, allora. Il cuore, ragazzi. Allora, allora, allora. Ago e Filo? Cioè, tu incontri una persona e gli chiedi se ha Ago e Filo. Sì! Perché no? Ho perso la strada. Indicheresti la direzione? Quale direzione, scusa? Quella per il tuo cuore. Dai! Ok, ok, ok. Come fai? Ok, ok, ok. Ma no, non posso. No, scusa, ma... Cioè, ma stanno venendo ad arrestarti, eh? No, stai attento perché, cioè, hai rubato il mio cuore. Vabbè, punto. Putta, Daniela. Putta! Perché vuol dire che io ti ho rubato il cuore e chi è che li ha avvisati gli sbirri? E tu! Quindi? Cioè... Quella stiamo scaurlando. Vabbè, redammelo questo cuore. Non l'ho mai preso. Quello è il problema. Non funzionato neanche così. Mai preso, mai preso. Va bene, va bene. Ma hai superpoteri? Perché quando ti guardo, sei fermo in tempo. Ehi! Ma tu viaggi nel tempo? Perché ti vedo nel mio futuro. Cazzo! E ti ho pure risposto! 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 Il mio mi è accaduto quando ti ho vista. Ma... Ma ce l'ha il porto d'armi? Per andare in giro con quegli occhi? Losingata! E ai, losingata! È?